Agli ordini di Fabio Pasciutta di Agrigento scendono in campo le squadre di Alma Juventus Fano in maglia Granata e San Nicolò in maglia bianco-azzurra. Di nuovo buon pomeriggio dallo Stario Mancini di Fano. Gucci, 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 Gucci va giù, Gucci! C'è il calcio di rigore per fare l'ammunizione! Il fisco delle diretture di gara parte Andrea Sivilla, il tiro e il gol! Andrea Sivilla! Intanto c'è Chiacchiarelli che è libero, attenzione sinestra, ci mette una pezza e salva il risultato. Parte Gucci, la palla è buona per Gucci, 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 Gucci! Intanto Borrelli verso Gucci, salta la palla è buona, Gucci, 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 vediamo Gucci, il tiro di Gucci! Goal! Nicolò! Lunardini intanto ancora verso Gucci, Gucci in aria, verso Marconi, il tiro di Marconi! E il gol! Strepitoso! Strepitoso Alessandro Marconi! Marconi! Marconi, Favo, tutto molto bello, poi è Sartori, Sartori, fa tutto da solo, Sartori, 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 il tiro! E il gol! Matteo! Sartori! C'è ancora Di Sante, c'è il tocco con un braccio, il rigore, il fischio del direttore di gara, parte Chiacchiarelli, il tiro, il gol! Tiro impeccabile, Sartori intanto, ci prova ancora Sartori, e un'altra perla! Matteo! Sartori è doppietta! Matteo!